Bentornati amici, se lavorate nel mondo della fotografia o della grafica io credo che vi sarà capitato prima o poi nella vita di dover scontornare qualcosa. Molto bene, sono sicuro che sapete già da video precedenti come si scontornano le cose su Photoshop, non sono altrettanto sicuro che sappiate come si fa a ottenere lo stesso effetto su un software un po' diverso che è quello di Illustrator. Oggi vi faccio vedere proprio questo, andiamo a scoprire come si fa a realizzare una maschera di ritaglio su Illustrator. È una cosa che può sembrare complessa ma vi assicuro che se sapete come farlo risulterà tanto facile quanto lo è su Photoshop. Inoltre in alcuni casi potrà risultare anche più immediato. Ovviamente è un utilizzo diverso che si fa dello strumento perché su Photoshop potremo andare a lavorare con dei pennelli per rendere la maschera molto personale e andare a rivelare o far scomparire delle aree ben precise con anche degli strumenti di selezione che servono a riconoscere pixel di colore o di luminosità diversa. Su Illustrator non c'è niente di tutto questo. Su Illustrator possiamo semplicemente decidere che avremo un'area visibile e un'area invisibile o possiamo decidere di avere un passaggio morbido tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile, quindi lavorare con un gradiente. Però è sempre un gradiente direzionale o radiale che però non ci permette di fare personalizzazioni con i pennelli. Lanciamoci all'interno dell'applicativo e andiamo a scoprire come funziona. Bene eccoci qui all'interno di Illustrator. Come detto andiamo a vedere come è possibile realizzare delle maschere di livello proprio come faremmo se fossimo all'interno di Photoshop. Per farvi capire di che cosa stiamo parlando la prima cosa che andrò a fare è riempire il mio livello, in questo caso la mia tavola, con un colore. In questa maniera quando andremo a posizionare un oggetto al di sopra di questo colore capiremo bene che cosa stiamo facendo perché altrimenti bianco su bianco rischia di essere poco chiaro. Una volta che ho creato questo livello io vado a bloccarlo, gli metto il lucchetto così non posso più selezionarlo e non mi rompe le scatole. Andiamo a vedere che cosa succede nel momento in cui io trascino una risorsa dentro nel mio documento e questa è una risorsa PNG, quindi è una risorsa che è già scontornata, che viene già privata del suo sfondo in partenza. Questo è un caso privilegiato quando troviamo una risorsa in PNG o quando realizziamo noi uno scontorno in Photoshop e poi abbiamo la risorsa scontornata possiamo lavorare in questo modo semplicemente trascinandola all'interno e non dobbiamo fare sostanzialmente niente per avere il nostro oggetto scontornato sullo sfondo. Ma che cosa succede invece se abbiamo a che fare con una risorsa come questa? Vedete che quello che succede è che qui abbiamo una risorsa che ha uno sfondo, questa lavatrice, uso una lavatrice perché è una cosa che mi capita molto spesso di dover scontornare per lavoro, questa lavatrice viene con uno sfondo bianco ed è in formato JPEG, quindi è un file che non è scontornato automaticamente. Allora andiamo a vedere che cosa possiamo fare. Intanto lo centro semplicemente per abitudine. All'interno di Illustrator è possibile realizzare delle maschere di livello proprio come se stessimo lavorando con Photoshop. Il procedimento è molto simile, infatti quello che andiamo a fare è che andiamo a prendere la nostra penna e tracciamo il contorno della nostra lavatrice. Adesso qui lo possiamo fare in maniera più o meno precisa, dipende da quanto è importante il lavoro. Ovviamente in questo caso capite bene che il lavoro per me non è particolarmente importante perché è solo per fini dimostrativi. Dunque qui abbiamo la nostra forma che tiene i colori che gli avevamo dato in precedenza. Io adesso la vado a selezionare e gli dico nessun colore. Dopodiché recupero la mia penna, vado a recuperare il punto di ancoraggio, zoomo perché voglio vedere bene quello che sto facendo e vado a proseguire il mio tracciato. Vado a fare un pochettino di curve giusto per dargli una forma un pochettino più armonica. Come vi dicevo questo lavoro non è importante al punto da doverlo fare benissimo perché è solamente per fini dimostrativi, ma lo faccio comunque per rendere il tutto un pochino più gradevole. Molto bene, abbiamo realizzato il nostro tracciato ed eccolo qui. Questo qui è un tracciato che al momento non sta facendo niente perché è completamente invisibile, non ha nemmeno una traccia, un riempimento, quindi è completamente invisibile. Andiamo però a vedere che cosa succede nel momento in cui io seleziono il mio tracciato. Questo lo buttiamo via che crea confusione. Vado a selezionare il mio tracciato che deve essere la cosa posizionata in cima, deve essere la cosa più in alto di tutte, non deve essere sotto al livello che voglio scontornare, ma deve essere sopra. Vado a selezionare il mio tracciato, vado a selezionare anche il livello sottostante, in questo modo sono entrambi selezionati perché se non li abbiamo selezionati non funziona più, quindi li riselezioniamo entrambi. Andiamo su oggetto e qui abbiamo una bellissima opzione clipping mask e qui abbiamo l'opzione make. Il comando da tastiera è command 7 o control 7 se siete da pc, io vi consiglio di ricordarvelo questo perché è molto comodo, io lo uso molto spesso per cui io senza passare dal menu io faccio direttamente command 7 e vedete che quello che abbiamo ottenuto è la selezione perfetta del nostro oggetto. Per quanto riguarda i livelli, qui abbiamo la possibilità di intervenire, nel senso che abbiamo creato un gruppo che si chiama clip group, possiamo chiamarlo in un altro modo, possiamo chiamarlo come vogliamo. Se andiamo ad aprire questo gruppo vediamo che abbiamo il nostro tracciato che è esattamente la forma che abbiamo tracciato prima, quale che sia, poteva essere un cerchio, poteva essere un poligono, è la forma che abbiamo tracciato prima che è ancora qui ed è perfettamente conservata ed è ancora vettoriale ed è ancora utilizzabile e modificabile ovviamente. E al di sotto abbiamo la nostra foto, come vedete la nostra foto mantiene le proporzioni originali perché è una tecnica non distruttiva. Se io spengo la maschera vedete che torna fuori il livello come era prima, quindi torna fuori il livello con tutto il suo sfondo e con tutte le informazioni che abbiamo deciso di rimuovere con questa operazione. Nel momento in cui io vado a selezionare solamente il livello del tracciato io posso intervenire su questo tracciato, posso spostarlo per esempio, adesso faccio comand z e ritorno in posizione, oppure posso selezionare la mia immagine e posso spostare l'immagine. In questo caso vedete che il livello rimane bianco all'interno della nostra maschera perché l'immagine contiene del bianco che arriva fin qui. Nel momento in cui io porto l'immagine fuori comincia a scomparire. Si comporta insomma proprio come una maschera all'interno di Photoshop, fatta eccezione per le trasparenze e le sfumature. In questo caso ovviamente non c'è permesso andare a pennellare perché qui stiamo lavorando solamente con un tracciato. Questo è un po' un limite di Illustrator ma in realtà per lavori di quel tipo è molto meglio lavorare all'interno di Photoshop e quindi in questo caso io vi faccio vedere solamente come si fa uno scontorno semplice. È pur sempre vero che se volessimo introdurre una sfumatura all'interno di uno scontorno è possibile farlo. E adesso andiamo a vedere come. Innanzitutto vediamo come si elimina una maschera che abbiamo fatto. Si può eliminare in due modi. Possiamo andare a prendere l'immagine e portarla fuori e in questo caso ci rimane la maschera che non sta più facendo niente perché è semplicemente un tracciato all'interno di una cartella. Se noi vogliamo rimettere l'immagine all'interno della maschera è sufficiente che la riposizioniamo altrimenti se la lasciamo fuori la maschera non ha nessun effetto. In alternativa possiamo anche andare a intervenire sul livello del tracciato cancellandolo. Se io lo cancello la maschera sparisce. Questa è una tecnica distruttiva però perché ho perso il mio tracciato originale. Quindi in questo caso io me lo tengo lì e lo conservo. Adesso quello che vado a fare vado a selezionare oggetto clipping mask e release e vedete che quello che è successo è che mi ha ripristinato la condizione iniziale ovvero abbiamo la nostra immagine sotto e abbiamo il nostro tracciato sopra che in questo momento ovviamente non sta facendo più niente. Andiamo a vedere come è possibile realizzare le maschere in un altro modo introducendo questa volta una sfumatura. Andiamo a selezionare innanzitutto il nostro tracciato. Andiamo a riempirlo questa volta non con un colore ma con una sfumatura. Però devo selezionare il colore di primo piano e non il colore del riempimento della traccia. Allora andiamo a dargli una sfumatura ed è una sfumatura di bianco e nero. In questo modo capiamo bene che cosa sta succedendo. Una volta che abbiamo fatto questo io posso andare su modifica e taglia comando ctrl x quindi importo la mia forma negli appunti. A questo punto vado ad aprire questo pannello trasparenza se non ce l'avete si troverà dentro finestre trasparenza e comparirà da qualche parte sul monitor sarà sufficiente trascinarlo dove volete che rimanga e lui rimarrà lì. Una volta che abbiamo aperto questo pannello andiamo a selezionare la nostra immagine e vedete che qui abbiamo un pulsante che si chiama make mask. Andiamo a premere questo pulsante e abbiamo realizzato una maschera che è interamente nera. Lo copre per intero il nostro soggetto. Allora adesso noi abbiamo selezionata la maschera. Avendo selezionata la maschera andiamo a premere comando ctrl f. Vedete che quello che è successo è che abbiamo importato la nostra forma che avevamo precedentemente disegnato e a cui avevamo dato una sfumatura all'interno della maschera. La nostra forma ha mantenuto la posizione perché non abbiamo fatto comand v non abbiamo fatto un'incolla banale ma abbiamo fatto comand f cioè incolla nella stessa posizione quindi l'avevamo ritagliato da qui e lo rincolliamo esattamente nella stessa posizione solo che l'abbiamo incollato nella maschera. Ha mantenuto le sue proprietà di bianco e di nero e quindi adesso agisce come una maschera vera e propria. Io posso anche invertirla e posso anche andarci a lavorare. Qui se vado ad aprire questo livello che si chiama opacity mask qui ho il mio tracciato che ha esattamente le caratteristiche di prima anche se faccio fatica a vederlo perché in questo momento vedo la mia lavatrice ma se io vado a selezionare lo strumento gradiente vedete che posso usarlo per far apparire o scomparire delle porzioni della mia lavatrice con una sfumatura che posso andare a definire quanto deve essere duro quanto deve essere morbida. Posso anche andare a lavorare in circonferenza quindi con un gradiente radiale posso andare a fare un gioco di questo tipo e anche qui posso andare a stabilire quanto deve essere duro il margine della mia sfumatura. Posso anche applicare una sfumatura di tipo diverso nel senso che posso manipolare la sfumatura da qui e posso per esempio andare a dirgli che voglio il nero da entrambi i lati. Quindi in questo modo quindi la mia sfumatura comincerà sul nero e quindi andrà a essere trasparente all'inizio per poi diventare visibile nel centro per poi tornare invisibile verso la fine. Posso andare a modificare la mia sfumatura esattamente come farei per una qualunque altra sfumatura posso anche fare l'opposto. Posso avere una sfumatura fatta in questo modo con il nero in mezzo e con il bianco sui due lati per cui il mio oggetto avrà un'area invisibile nel mezzo e anche qui posso andare con queste maniglie a gestire quanto deve essere grande quest'area. Posso anche agire con le maniglie direttamente sulle immagini se mi viene più comodo. Quindi posso andare a zoomare maggiormente per avere un controllo e una precisione maggiori. Una volta che sono soddisfatto con la mia immagine che in questo caso è orrenda e non ha senso posso decidere di tornare alla visualizzazione normale perché come potete vedere qui siamo nella visualizzazione maschera quindi mi è impossibile continuare a lavorare in questo modo. Per tornare alla visualizzazione normale io devo riaprire il pannello trasparenza e cliccare sull'immagine. In questo modo vedete che siamo tornati alla condizione di partenza io qui ho la mia immagine che ha ancora le sue informazioni sotto posso prenderla e trascinarla perché la maschera si muove insieme. Se voglio tornare a lavorare sulla maschera devo tornare sulla maschera in questo pannello e vedete che il pannello dei livelli cambia e di nuovo sto lavorando sulla maschera. Ora noi qui possiamo anche togliere il lucchetto e in questo modo possiamo spostare. Se abbiamo selezionato la maschera possiamo spostare soltanto la maschera. Se abbiamo selezionato l'immagine possiamo spostare soltanto l'immagine. Possiamo anche invertire la maschera nuovamente o possiamo anche rimuovere il clip dalla maschera. In questo modo vedete che quello che sta succedendo è che la maschera sta agendo ma sta agendo solamente nella porzione che copre cioè lo sfondo sta venendo modificato all'interno della maschera non all'esterno. Nel momento in cui io vado a invertire posso ancora farlo e vedete che le porzioni interne della mia maschera vengono cancellate mentre lo sfondo rimane visibile. Nel momento in cui io la riclippo vedete che lo sfondo sparisce per intero. Ovviamente se io voglio eliminare questa maschera nulla di più facile basta che clicco release e vedete che viene ripristinata la condizione iniziale per cui abbiamo la mia forma che adesso può smettere di avere una sfumatura. Abbiamo di nuovo la mia forma che sta in cima e il mio livello che sta sotto. Se vogliamo ripetere l'operazione possiamo selezionare tutto e fare command 7 e di nuovo siamo in una condizione di maschera semplice oppure possiamo andare a selezionare la nostra maschera e di nuovo dargli una sfumatura e così abbiamo una sfumatura molto semplice. Di nuovo apriamo il nostro pannello trasparenza selezioniamo entrambi i livelli e gli diciamo make mask ed ecco che nuovamente abbiamo il nostro livello con la maschera applicata ed ecco che nuovamente possiamo invertirla e nuovamente possiamo selezionare la maschera ed ecco che nuovamente possiamo andare a modificarla con lo strumento gradiente. Ovviamente possiamo andare a modificare il gradiente in maniera tale che sia un pochettino più comprensibile quello che stiamo facendo. Ecco qui possiamo fare tutte le sfumature che vogliamo. Ora quale dei due tipi di tecnica è più utile? Questo lo stabilirete voi di volta in volta. È evidente che nel momento in cui dovrete scontornare un oggetto poligonale o comunque un oggetto estraibile con una forma semplice secondo me la cosa più conveniente da fare è fare command o control 7 e avere semplicemente uno scontorno semplice. Ma che cosa dovrebbe succedere in un caso come questo? Andiamo a vedere cosa succede con un'immagine di questo tipo che è gigante per cui adesso la prima cosa che facciamo è che andiamo a centrarla e a rimpicciolirla. Andiamo a vedere che cosa succede con un'immagine di questo tipo. Diciamo di voler applicare questo cielo su uno sfondo di altro tipo oppure il contrario facciamo finta di voler applicare a questa terra un cielo diverso. Beh ora sappiamo come muoverci. Andiamo a creare un tracciato che copra l'area di cui ci vogliamo occupare. Andiamo a impostare una sfumatura in maniera tale da poter far scomparire l'area che vogliamo far scomparire. Adesso selezioniamo entrambi i livelli andiamo a selezionare trasparenza e gli diciamo crea maschera. Vedete che quello che è successo è che abbiamo creato una maschera che ci permette di far sparire il cielo. Nel momento in cui vogliamo andare ad agire su questa maschera non facciamo altro che andare a selezionare il nostro livello. Andiamo a selezionare la maschera e gli diciamo per esempio inverti. In questo modo potremmo andare a fare l'opposto ovvero potremo andare a nascondere la terra rivelando il cielo. Andiamo a prendere la nostra sfumatura la trasciniamo in posizione. Possiamo andarla a regolare come meglio vogliamo quindi possiamo andare a ridurla in maniera tale da avere ecco in maniera tale da avere un passaggio un pochettino più più ruvido tra il cielo e la terra e qui adesso possiamo andare a posizionare qualcos'altro sotto. Questo è vero che è un procedimento che sarebbe molto più semplice da realizzare all'interno di photoshop. Quello che mi preme farvi vedere è che è possibile realizzarlo comodamente anche all'interno di illustrator. L'unico problema è che qui non abbiamo a disposizione i pennelli per gestire questa sfumatura e questa maschera. Non possiamo andare a pennellare per eliminare eventuali errori ma dobbiamo giocarcela interamente con i gradienti. È pur sempre vero che potremmo realizzare un'immagine con un mesh quindi andare a rendere questo gradiente un pochettino più complesso ma secondo me ci si va solo a complicare la vita. La verità è una se il vostro gradiente può essere risolto in questa maniera o può essere risolto con una semplice maschera sentitevi liberi di farlo utilizzando il software di illustrator. Per qualunque cosa più complessa di questo per uno scontorno che riguardi per esempio capelli o alberi nel cielo o nuvole o altre cose più complesse è molto meglio se passate da photoshop perché troverete degli strumenti dedicati alla selezione di oggetti anche più complessi.